Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di Thailandia, ma parliamo anche di criptovalute, due argomenti che come sapete sul canale sono sempre affrontati. Quest'oggi parliamo di perché le criptovalute potrebbero essere l'opportunità per la Thailandia di salvare i propri turisti, soprattutto quelli che arrivano dalla Russia. Vediamo intanto ovviamente quello che sta succedendo e quelle che sono le implicazioni appunto anche per quanto riguarda appunto le criptovalute. Come sempre ragazzi vi ricordo in questo caso parlando di Thailandia di cripto, le due playlist principali del canale, la prima della Thailandia dove parliamo di tutto ciò che riguarda appunto la Thailandia, le novità legate al turismo ma anche la cultura e l'economia della Thailandia. Ovviamente vi ricordo anche la playlist criptovalute e valute digitale sul mio canale dove parliamo veramente di tutto ciò che riguarda la finanza decentralizzata, i token e gli exchange che utilizziamo per acquistare le criptovalute. Come sempre ragazzi, quindi prima di cominciare vi chiedo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Ora come sempre sigla e poi vediamo tutto. Eccoci qua sulla pagina criptovaluta.it e leggiamo come le sanzioni contro i cittadini russi che di fatto non hanno più a disposizione le loro carte Visa, le loro carte di cripto Mastercard per saldare addirittura anche gli alberghi di chi era lì in quel momento ovviamente ora cercano asset alternativi per poter utilizzare il proprio denaro e questo è la notizia del giorno, cioè il primo paese a muoversi in questa direzione sarebbe la Thailandia che attraverso le sue autorità locali per la promozione del turismo potrebbe in via sperimentale accettare cripto dai turisti russi. In realtà in Thailandia si accetta già a diverso tempo criptovalute come strumento di pagamento, io personalmente l'ho sperimentato in realtà utilizzando non Bitcoin ma altre cripto meno onerose da un punto di vista delle transazioni, ne ho parlato in un video qualche mese fa che ti lascio qui in alto in questo link se non l'avevi visto, dove di fatto parlavamo di questa tendenza della Thailandia a essere molto cripto-orienti da accettare diverse modalità di pagamento in criptovalute qui si parla di Phuket come test per questa attività cioè la Thailandia a Phuket sarebbe già pronta su larga scala ovviamente agli alberghi a fare transazioni in criptovalute c'è un tema sicuramente di avere wallet disponibili di avere appunto anche la capacità di utilizzare delle cripto non onerose dal punto di vista delle transazioni quindi non potrà sicuramente essere Bitcoin ma questo è sicuramente molto interessante perché consentirebbe anche a chi non è russo di poter saldare le proprie prenotazioni in Bitcoin o in criptovalute e questo è secondo me una possibilità veramente molto importante perché di fatto consentirebbe anche di non dover sempre passare il tasso di cambio euro-taibat che come sapete comunque in generale in questo momento penalizza molto chi ha gli euro tra l'altro per quanto riguarda il tasso di cambio euro-taibat qualche giorno fa ho pubblicato un'analisi interessante se come sfruttare il cambio per poter guadagnare del denaro se non hai ancora visto questo video te lo lascio qui in alto nel link guardalo, commentalo, fammi sapere cosa ne pensi sappiamo insomma che le autorità centrali, le banche da sempre stanno cercando di regolamentizzare le criptovalute di fatto come leggiamo qui autogold e sistema bancario classico questo perché queste sanzioni giusto o sbagliate che siano di fatto stanno spingendo chi non ha la possibilità di utilizzare le valute fiat quindi in generale normale di utilizzare strumenti di pagamento alternativi e le criptovalute ovviamente si prestano a questa cosa ovviamente ripeto questa è un'alternativa sappiamo che c'è anche un discorso di come la Cina attraverso il suo sistema Union Pay si sta quasi proponendo per aiutare la Russia in questo settore il settore appunto dei pagamenti perché anche per contatti personali io ho sentito persone appunto che avevano carte di credito rilasciate in Russia di circuiti tradizionali che effettivamente ora non possono utilizzarli cosa vuol dire questo per quanto riguarda la Thailandia la Thailandia ripeto non è una novità nel senso che la Thailandia è sempre stato un paese orientato alle criptovalute come dicevo prima personalmente mi è capitato di pagare addirittura dei massaggi o dei ristoranti anche con una scontrina 600-700 Watt in criptovalute in particolare utilizzai Dash che sicuramente è una criptovaluta più flessibile ripeto guardate il video che vi ho elencato prima dove ne parlavo utilizzavo come exchange Anypay che è quello più facile secondo me e questa è sicuramente una notizia interessante quindi da una parte vediamo che la Russia la Thailandia scusate in questo momento non vuole rinunciare ai turisti russi però dei motivi perché nella fase di apertura comunque i turisti russi sono importanti e quindi la Thailandia per aiutarli per favorirli anche perché ripeto non è colpa certamente dei civili quello che sta succedendo la Thailandia si apre ancora di più al pagamento in criptovalute tra l'altro ovviamente Phuket in questo momento che forse è un po' il simbolo della ripartenza della Thailandia vedremo come si riaprirà nel senso che quanto sarà poi veloce l'adattamento a questa tipologia di transazione quello sicuramente che secondo me è interessante è poi vedere come questo impatterà anche sui colossi del tech delle prenotazioni alberghiere come Booking perché se si passa alle criptovalute anche loro dovranno cominciare ad aprirsi alle prenotazioni ai pagamenti delle prenotazioni in criptovaluta per non perdere poi segmenti di fatturato molto molto importante ovviamente ripeto seguiremo questa notizia perché come avete visto sul canale parliamo sia di Thailandia che parliamo di criptovalute perché a breve sicuramente entro qualche mese conto di anch'io tornare in Thailandia e sicuramente qualora ci fosse la possibilità di fare una prenotazione attraverso criptovalute ovviamente la farò e sicuramente sarà mia intenzione anche condividere con voi quello che poi sarà appunto il percorso e così l'esperienza di appunto di questa prenotazione pagata in criptovalute da un punto di vista complessivo ripeto in Thailandia in questo momento ci sono moltissime opportunità riguardo le criptovalute business legate alle criptovalute e il fatto che le attività turistiche debbano aprirsi ai pagamenti in criptovalute è soltanto un'evoluzione accelerata da questo conflitto della Russia che quindi coinvolge un effetto importante perché sappiamo quanto quanto è importante il turismo russo per la Thailandia chi è stato in Thailandia sa benissimo che qualche anno fa c'erano segmenti di mercato mi riferisco ad esempio la vita notturna a Pattaya dove gli investimenti russi erano diventati particolarmente importanti a causa del fatto che il rullo era diventato veramente molto forte quindi per loro era divenuto facile acquisire attività di business lì ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa notizia per quanto riguarda ovviamente la Thailandia se è una cosa che eventualmente vi interessa ovviamente se seguite il canale anche per le criptovalute questo vuol dire che le criptovalute sicuramente saranno sempre più utilizzate sempre più comprate e quindi di conseguenza possono rafforzare le loro capitalizzazioni sempre di più ovviamente ragazzi come sempre se il video vi è piaciuto un bel like se vi piace il canale anche vi chiedo di iscrivervi cliccando sulla campanellina per le prossime notifiche dei video delle prossime live che faremo sul canale direi come sempre quindi grazie per aver visto questo video fino adesso un abbraccio come sempre e un arrivederci qui sul canale con nuovi video per quanto riguarda le cripto per quanto riguarda la Thailandia a presto ciao